ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale su questo video parliamo di alberto urso che trionfa l'arena di verona un successo clamoroso quello di alberto urso il neo vincitore di amici 2019 si è esibito all'arena di verona in occasione del siat music award con il brano accanto a te una performance che ha letteralmente conquistato la platea che gli ha dedicato una stinging ovation un momento toccante anche per lo stesso urso che visibilmente emozionato ha detto per me è un'emozione unica essere qui stasera cantare all'arena di verona è un sogno e mi batte il cuore a mille ancora non ci credo da piccolo ho sempre studiato ho cantato ho fatto anche ti lasci una canzone e dopo la standing ovation carlo conti che conduceva le operazioni sul palco rivolgendosi a urso ha affermato maria de filippi sarà sicuramente orgogliosa di te se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale mettete un like commentate che è la cosa più importante alle prossime news un abbraccio da Joe Red